L'influenza fa cambiare le mie fantasie e le modifica e poi le rimodella d'arte non sono stato male capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male non è stato messo, aveva un po' giocato e soprattutto gli dice la messa è finita non voleva portare questa canzone ma saremo ma no ma non ci prenderanno mai a saremo una canzone del gente poi bisogna dare un po' di brio devi mettere qualcosa di diverso perché così non può andare la messa è cantata ma può andare o ti preoccupare ci penso anche servire che sapere se l'altra non mi fa me detto che sei stata tanto bene eri sincero pura lungo solamente una parete senti un'ora pure scarsa e non mi va di drivarmi nella nave per farmi male, farmi male, farmi male, tanto male per farmi male, farmi male, farmi male, tanto male eh no, eh no, non mi puoi cascare sullo schiocco perché qui, scusate, è una cosa del genere è molto piccola E' un schiocco. Improviamo. Ci sono anche due... Dai! Eravamo in mazzi? Dai! Mi servirebbe sapere... La strategia a parlare... Tutte quante le varie... Quale sia la strada giusta per giustificare il male... D'alleviare gli spiacere... Mi servirebbe saperlo quanto prima... E farmi male molto male... E farmi male tanto male... E farmi male tanto male... Farmi male tanto male... E farmi male tanto male... Al�ipτά, qua non c'era signora... Perché arrivati a questo punto io... ero convinto di aver fatto il mio lavoro dopo e il pezzo durava un minuto chiesa mi riguarda il mio brutto e mi fa dovevo andare sempre a Sanremo sto pezzo bonsai dovevo andare un minuto e mezzo e non possiamo andare e mi ha ripreso la tristezza molto più triste e farmi male e continuare ad aspettare il tuo contino a vivire di concetto a forse alla fine mi piace un po' così sorride e farmi abbandonare qui decidi qui un timido l'ho fatto però io mi aspettavo che lo facessi tu ma qui c'è uno rifacciamo decidi ti oh questo è un o che sta al limite tra il sessuale e oh qui ci vuole un o incazzato oh decidi ti oh oh aiutiamo facciamolo decidi ti oh oh mi piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e realmente è la tua luce intermitenza per votarmi di pazienza il mondo mio che piaccio con mirati e fammi male e fammi male e fammi male tanto male e fammi male e fammi male e fammi male tanto male grazie 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 davvero grazie da te grazie grazie grazie